Siamo con il professor Franco Torcellan per il seminario sul consiglio dei ragazzi in Expo Scuola. Le chiediamo qual è il concetto di comunità che emerge da un'esperienza come questa, soprattutto visto l'esperienza di social network all'interno del progetto dei vari consigli dei ragazzi in Veneto. Il concetto di comunità è il concetto principale. Il progetto nasce sostanzialmente oggi, ma si fonda su esperienze che sono più che decennali ormai, attivate in varie scuole del Veneto, d'Italia, ma anche a livello europeo e anche di paesi che sono lì per entrare nell'Unione Europea. Il concetto di comunità è fondamentale perché i progetti di consigli di ragazzi, di consigli comunali di ragazzi, sono progetti in cui i ragazzi apprendono la democrazia, quindi apprendono la partecipazione e non lo fanno in genere attraverso simulazioni, non lo fanno in forma scolastica, nel senso cattivo del termine, lo fanno in situazioni vere, in cui effettivamente prendono coscienza di qual è la realtà che loro vivono, fanno delle ipotesi di trasformazione, insieme condividono dei valori e sulla base di questa condivisione di lavori fanno delle scelte e propongono poi agli amministratori comunali dei cambiamenti nella loro scuola, ma anche in tutto il territorio comunale. Quindi è comunità veramente nel vero senso della parola. Comunità che comincia fin da piccoli, non i cittadini di domani, i cittadini già di oggi. Quindi praticamente loro non si sentono più soltanto rappresentati, ma anche responsabilizzati un po' alla volta. Il concetto di responsabilità è il concetto base per l'educatore, direi che proprio lo mette in testa nei propri obiettivi didattici, insomma con questo tipo di azioni. Sicuramente le situazioni hanno dimostrato che effettivamente i ragazzi sanno rapportarsi alla realtà, non attraverso il sogno, attraverso la favola, ma in termini molto concreti, ma anche molto innovativi. Quindi mantengono il sogno dell'innovazione, ma acquistano la concretezza che pian piano li porta verso l'età adulta. Quindi basta adeguare la tipologia di comunicazione per far arrivare alla fine un messaggio, che è quello dell'essere cittadini sin da piccoli. Sin da piccoli, cioè si è subito cittadini, quando si nasce si è cittadini e pian pianino si acquisiscono sempre più strumenti che ti aiutano a partecipare ovviamente alla vita politica. E riguardo invece il concetto di digital storytelling, che è molto interessante e mi sembra anche con un contesto molto ampio, anche europeo. Cosa ci può dire? Dicevo, prima che sono esperienze decennali, il motivo per cui noi facciamo partire un social network è quello per cui in realtà queste grossissime esperienze sono anche relativamente conosciute. Sono conosciute spesso molto bene, o meglio parzialmente sono conosciute nell'area stessa in cui avvengono. Sono patrimonio dei genitori, sicuramente, ma già molti nel territorio comunale magari non le conoscono. Dopodiché all'esterno del territorio comunale la coscienza della cosa, la memoria della cosa tende a perdersi. E sono dieci anni almeno di lavoro in tante situazioni e tante tante azioni fatte. Ora, è fondamentale che tutto questo non vada perduto e che ci siano tali sinergie da permettere il massimo sviluppo ad azioni che trovano anche la loro significatività massima se vanno al di là dell'area comunale stessa. Insomma, tutte le iniziative sulla solidarietà puntano a paesi extraeuropei spesso, quindi non ha molto senso che si generino a Martellago e rimangano dentro Martellago, evidentemente. Allora, la base di questa proposta è documentare quello che si è fatto e quello che si va a fare. Il social network consente di farlo, consente la cosa attraverso vari strumenti, dal blog, poi al forum per discutere sulle azioni che avvengono, poi ci sono i repertori di foto e i repertori di video. Questi strumenti permettono di documentare oggi in una modalità nuova. Anzi, non è per niente nuova in realtà, è un ritorno al passato. È basare la narrazione dell'esperienza appunto su una narrazione, perché la cosa che noi riusciamo a veicolare meglio è proprio il racconto. Attraverso il racconto di quello che abbiamo vissuto, le nostre storie positive, possiamo veicolare dei valori. Una sorta di tradizione orale che si perpetua, digitalizzata però. Assolutamente. Io dico sempre che la scuola deve recuperare un filò, tanto per rimanere nel Veneto, cioè trovarsi tutti attorno al camino, attorno nella stalla, al caldo, e raccordarsi le storie. Le storie coinvolgono emotivamente, permettono di tirare fuori il senso delle esperienze e quindi di progettare poi il futuro. Oggi abbiamo strumenti digitali che ci consentono un racconto più facilmente raccoglibile e più facilmente comunicabile per tutti, non solo per il bravo narratore. E questo è quello che cerchiamo di far fare ai ragazzi in primis, ma poi anche agli insegnanti, anche noi adulti. Forse più noi adulti dobbiamo recuperare questa abilità di racconto della nostra vita, della nostra vita professionale in questo caso. Certo. La ringraziamo e le auguriamo buon lavoro. Grazie.